Ciao ragazze, ciao, siamo qui, stiamo andando nella profumeria, ciao ragazze, dove Nicole farà l'incontro, stiamo andando al Corso Garibaldi, alla profumeria Mediterraneo, ci siamo incontrate tutti al McDonald come previsto alle 3, siamo una decina, non so se si vede il gruppo dietro, ciao, 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 e ci stiamo avviando, quindi tra poco ci vedremo all'entrata della profumeria, sperando che non ci sia troppa gente, a dopo, ciao. Eccoci arrivati alla profumeria, non c'è ancora nessuno, non so che ora sia, ecco la profumeria Mediterraneo, non è una farmacia ragazzi, è una profumeria, ecco il cartello di Nicole, Nicole in tour con Laila. E noi entriamo, ciao, ah c'è gente. E noi entriamo, ciao, ah c'è gente. Bella, ma è tornare a saperla di me, sì. Non ha provato a cipare avanti, ma è bisogno. Ma chi l'ha provato a cipare avanti? Eh, chi l'ha provato a cipare avanti? Voglio sapere? È qua. Tu dai, la mia. Alla mia. Non... No, non vale. No, vale. No, vale. Sono di noi, poverini, abbiamo le ciglia tificative. Devil Zero Malefica. ma non credo li abbia per lavare i pennelli io lavo con quello io la saponetta questo è un reparto molto interessante che cosa io questo ma non mi è piaciuto proprio questo benumiele prossimamente un video sul canale guardate come sono in quel video carina proprio con la cuffia in testa sì, come video applicazione spero si veda qualcosa io voglio provare questa qua che mi incuriosisce panoramica generale Marti 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 Grazie a tutti